Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning Oggi andiamo a vedere un video su come cambiare il portatarga della macchina In quanto a parte il fatto che il mio è argentato e non mi piace quindi vorrei metterlo nero Inoltre ci sono le viti che sono tutte arrugginite E un'altra cosa ci sono le scritte che mi danno fastidio Quindi niente in questo breve video vi faccio vedere come togliere il portatarga Mettere questo nuovo nero E inoltre cambiare le viti con dei rivetti I rivetti blu e bianchi così praticamente andrò a mimetizzare al massimo questi dettagli Perché sono i dettagli che fanno la differenza Quindi ragazzi intro e cominciamo subito Ok ragazzi siamo pronti per smontare il portatarga Ci dobbiamo armare di cacciavita stella Veramente semplice e veloce Togliere quattro viti belle arrugginite Come potete vedere lo stato del portatarga non era dei migliori Anzi della targa direi Nel retro veramente c'erano i bambini morti Quindi mi sembra cosa buona e giusta andare Dare una pulita ecco perché mi sento anche un po' maniaco Però penso che pure voi siete come me E quindi avreste fatto la stessa cosa Quindi una pulitina con uno sgrassatore E il generico universale Ho utilizzato il primo che ho trovato in casa Senza troppi sbatti Poi portatarga nuovo alla mano E mi sono preso le misure Con una matita Per andare a fare i nuovi buchi In quanto nessun foro del portatarga Azzeccava i buchi precedenti C'è una cosa assurda Una sfiga allucinante E quindi niente Non ci vuole molto a fare i buchini Però I buchini I fori Con il travano Però comunque i segni vanno presi E vanno presi bene Sennò poi il portatarga Viene storto Come riferimento io ho preso Quel buco centrale Che vedete sotto la telecamera Per capirci Con una punta di trapano Che ho misurato Prendendo come riferimento I fori precedenti Quindi Anzi leggermente più piccola Più piccolo l'ho fatto Così che le viti Si avvitassero proprio a mestiere E come potete vedere Con un trapano Via Ho dato una bella stretta Tutte e quattro Così Potevo anche rivettarla Però I rivetti Argento Per il portatarga Non me li ero portati Quindi Ho provveduto con le viti Ecco E quegli altri Mi servivano per la targa Perché sono colorati Questa Per inserirla È stata un po' Un po' scomodo Ecco Perché con un cacciavite piatto Mi sono dovuto fare la leva Sul portatarga Perché la mito C'ha questo rilievo Sul paraurti Che non permette Di infilare la targa Lateralmente Con un trapano Come avete visto In prima Ho dato Un'allargata al buco Per far entrare il rivetto E ho rivettato Il portatarga Ok ragazzi Che dire Il lavoro è venuto bene Diciamo Non è stata Non è stata Una procedura molto lunga A cambiare Il portatarga È stabilissimo E Penso che non si toglierà mai L'unica cosa È che questi divetti Purtroppo Appena li metti Si Si stacca leggermente La vernice Quindi Si sono un po' Rovinati Però vabbè Pazienza Ecco Avete capito Quello che intendo Però solo questo Mi si è rovinato Gli altri stanno bene Quindi ragazzi Per questo video È tutto Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi Al mio canale Attivate la campanellina Delle notifiche Soprattutto Iscrivetevi Alla mia pagina Instagram Mitch Tuning Vi lascio il link In descrizione Del portatarga E Del kit Dei rivetti Della rampa Ovviamente Ho pagato tutto Però vabbè Mi dite sempre Che non mette link Stavolta Ve li metto E Per questo video È tutto Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti 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 Ciao a tutti